mi è capitata una cosa curiosa settimane fa ho trovato il diario di una bambina io quel diario l'ho tenuto perché quella vita mi piaceva quanto segue è ispirata una storia vera la storia vera è ispirata una storia falsa la storia falsa non è molto ispirata la storia vera è una storia vera